Grazie al prestito che FCA Bank e l'ISIS hanno fatto ad Ampas abbiamo a disposizione in tutta Italia 130 vetture che stiamo utilizzando nei servizi di assistenza alla popolazione principalmente il servizio di spesa a domicilio, di farmacia a domicilio ma anche la consiglia di mascherine e tutto quello che può essere utile per alleviare i disagi che la popolazione può vivere in questo momento legati al coronavirus. Il sostegno è molto importante sia come senso di vicinanza, come riconoscimento del lavoro di Ampas in tutta Italia ma anche perché comunque i servizi vanno avanti e quindi questi mezzi in più sono una possibilità in più per permettere ai nostri volontari di dare una risposta maggiore alle esigenze della popolazione.